Ormai è da un po' che ti osservo. Tu sei diverso. Non permettere mai a nessuno di dire che non hai nulla da offrire, figliolo. Non è detto che potrai avere una seconda occasione. Ti suggerisco di considerarla attentamente. Questa è la tua occasione di diventare l'eroe che lei già pensa tu sia. Non si tratta di salvare il nostro mondo, ma di salvare il loro. Scott. Grazie! Riccrate! Scara. 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 Grazie a tutti.